Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, per chi non mi conoscesse mi chiamo Enrico Caffarelli e ti invito a supportare questo video con un bel like e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto per i nuovi iscritti ragazzi vi voglio bene a tutti, vi mando un caloroso abbraccio alla grande, grazie e grazie a tutti ma veniamo alla notizia di oggi perché io me le leggo tutte le notizie e quelle più in risalto le posto sul mio canale quando un giocatore si mette in luce che sta facendo un campionato straordinario, magnifico viene imposto sotto i riflettori e quindi squadre di altissimo rango, di altissimo livello cominciano ad interessarsi e parliamo di Kvara Schelia, dirò Kvara che è molto più facile dove è stato preso di mira dal Real Madrid, sirene spagnole per il forte giocatore del Napoli che per lui, parlano i numeri ragazzi, parlano i numeri un calciatore che ha effettuato 11 gol e 14 assist in 23 partite numeri da record, numeri da record però secondo quanto riporta a cadena SER non so se sia una testata giornalistica o una televisione o un personaggio non lo so chi sia, dopo mi informerò magari il Real Madrid sta seguendo con interesse la crescita del Giorgiano e sarebbe pronto a fare all in su di lui in caso di mancato arrivo di Bellingham in caso di mancato arrivo di Bellingham a Real Madrid ma io sono della Roma, però gli occhi ce li ho ma Kvara secondo me è di un'altra categoria Bellingham è un fortissimo calciatore anzi, te che stai guardando dimmi anche la tua qua sotto nei commenti chi preferisci, Bellingham o Kvara? a me piace molto di più Kvara però io non conto nulla praticamente il Napoli però ha risposto in questa maniera De Laurentiis, queste sono le parole di De Laurentiis i nostri giocatori sono molto richiesti ma non mi sento costretto a vendere perché non abbiamo debiti questa è una frase molto importante ragazzi su cui riflettere perché giustamente il Napoli non ha bisogno di vendere invece la Roma, il Milan, l'Inter, la Juventus sono indebitate e io mi ci metto in mezzo anche io da romanista e vedo che la Roma purtroppo non può comprare per il fair play finanziario quello che è, un giocatore che esce deve per entrare un giocatore, mi sto anche imbrogliando io deve uscire necessariamente un altro dare avere, dare avere sta diventando una partita IVA la Roma anche l'Inter, anche il Milan, anche la Juve invece il Napoli può tenersi i suoi calciatori per le sue casse economiche positive e a questo punto quindi che cosa fa il Napoli? prepara una proposta di rinnovo però la gente ha affermato questo la gente di Quara sono solo io che rappresento Quara si mette in contatto solo con me e suo padre non ci sono terzi che lo rappresentano come scritto in Spagna detto questo, sì, c'è molto interesse da parte di altri club questo la gente Quara però pensa solo alla vittoria dello Scudetto e alle partite del Napoli in Champions League e beh, giustamente poi ancora la risposta del Napoli che praticamente eccolo qua è pronto a blindare l'ingaggio del giocatore a blindare il giocatore con un ingaggio raddoppiato e stando a quanto riscrive la gazzetta dello sport appena terminerà la stagione Quarastel, Quaraschelia scusate non riesco mai a dirlo Quara e il Napoli discuteranno un adeguamento di contratto un ingaggio raddoppiato da 1,2 milioni netti ragazzi, 1,2 milioni netti prende Quara io leggo di cifre scandalose per certi zappaterra scusatemi del termine infatti non dirò chi sono questi zappaterra che prendono 3, 4 milioni Quara, 1,2 milione e circa e prolungandolo a 2,5 milioni fino al 2028 perché attualmente il suo contratto finisce nel 2027 ragazzi, prepariamoci perché qui veramente il Napoli dovrà blindare questo calciatore anche se non è costretto a vendere il Napoli però aumentando la cifra dell'ingaggio del calciatore magari farà star buono il suo agente perché, parliamoci chiaro, sono gli agenti che si mettono in contatto con le altre squadre che li ricoprono d'oro con queste commissioni noi ne sappiamo qualcosa con Zagnolo che il procuratore lo voleva vendere a chiunque l'importante è che gli dava la cifra pattuita ovviamente Zagnolo non sarà la stessa situazione di Quara perché Quara sta giocando benissimo si trova bene sta cercando di vincere con il Napoli quindi non sarà la situazione come quella di Nicolò Zagnolo però, ragazzi, io di questi procuratori non ne sono tanto convinto perché sono proprio il denaro per loro è tutto è tutto, è giustamente è il mestiere loro si fanno pagare tantissimo e Mino Raiola ha dato scuola a tutti il povero Mino Raiola anima, come si dice, pace sua dove si trova adesso ha dato scuola a tutti e questi procuratori quindi dovranno stare molto tranquilli e quieti perché il Napoli non ha bisogno di vendere De Laurentiis gli ha detto a chiare note e quindi si prepara a rinnovare con il club partenopeo volevo condividere questa notizia perché appena un giocatore si mette in luce come ripeto, come ho detto all'inizio subito viene messo sotto i radar di queste squadre che hanno tantissime possibilità però il Napoli, come ha detto De Laurentiis non è costretto a vendere e questa è una cosa molto, ma molto, ma molto importante perché ovviamente non avendo bisogno di fare entrare soldi nelle casse non sei neanche costretto a vendere e quindi il calciatore deve stare molto tranquillo e soprattutto il suo agente ragazzi vi lascio perdere ci vediamo al prossimo video ti invito a supportare questo con un bel like iscriviti al canale se è la prima volta che mi vedi ho fatto un po' di casini però almeno ti ho riportato una notizia che può essere interessante anche ai tifosi non napoletani perché Quara è un gioiello del calcio italiano della Serie A ci vediamo alla prossima, ciao!